Arsiero. È mezzogiorno quando un dodicenne sta facendo il bagno nelle pozze che il torrente astico crea in Contradellapria, dove l'acqua è profonda fino a 9 metri. Alcuni bagnanti però, a un certo punto, si accorgono che il ragazzino è in difficoltà e sta annegando. Qualcuno si tuffa per salvarlo. Viene riportato a riva, ma è rimasto sotto abbastanza per apparire grave. Viene allertato il 118. Sul posto si precipitano i medici e gli infermieri che prestano le prime cure. Poi l'elisoccorso di Verona porta il dodicenne all'ospedale San Bordolo, dove è ricoverato in terapia intensiva pediatrica.